Lei indossa Milano-Cortina 2026, intanto dopo i mondiali a Cortina arriva il Giro. Sì, devo dire che Cortina ha puntato molto sui grandi eventi sportivi, i mondiali di sci, in prospettiva alle Olimpiadi, non poteva mancare il Giro d'Italia. La data cruciale sarà il 24 maggio, quando il Giro d'Italia arriverà a Cortina d'Ampezzo, che intanto si prepara con entusiasmo ad accogliere la corsa in rosa. Il Giro d'Italia che ritorna dopo nove anni, direi con un tappone dolomitico veramente molto bello, entusiasmante, con 5.700 metri di dislivello, quindi siamo in attesa sicuramente di questo che sarà l'evento della primavera estate cortinese. Quella ampezzana sarà la più attesa delle tappe dolomitiche di questa 104esima edizione del Giro, che sin qui si è intanto svolto nelle peggiori condizioni climatiche che si potessero immaginare. Grazie.